Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Davide De Vito e oggi siamo nel video speciale dei 500 iscritti, 0,5k, ecco l'errore che faccio. Allora ragazzi, in questo video speciale non sarò io il protagonista, per questo si chiama speciale, proprio perché è diverso dalla norma, non sono io a stare dietro al computer a svolgere un gameplay o un tutorial o qualunque cosa sia, ma sarà mio fratello il protagonista di tutto quanto. Svolgerà un gameplay su GTA 4, è alle prime armi, quindi non so cosa può combinare, ma il computer è nelle sue mani, il mouse nella sua mano e la tastiera nelle sue mani, quindi tutto quanto andrà sotto il suo controllo, io me ne andrò via, poi eseguirò ovviamente la fase di produzione del video, che sarà quella di tagliare i pezzi in cui si agito o non fa niente. E spero vi piatto, ragazzi come sempre lasciate un commento, bastate anche nella mia pagina Facebook, il link è nella descrizione del video, quindi vi lascio e niente, grazie di questo piccolo traguardo che io considero comunque sempre un punto di partenza e non di arrivo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Gabriele De Vito e oggi facciamo questo piccolo gameplay su GTA 4. Usciamo in casa prima cosa, perché è brutta casa, non è molto bella. Allora, prima cosa accendiamo il cellulare e vediamo i trucchi che abbiamo. La pulizia, è successo qualcosa? Ah, ma c'è stato a risolvere qualcuno, eh? Non ho mai visto una cosa del genere, mai. Wow, pulizia da tutte le parti. Questa qua è una delle prime mod della pulizia, è una delle migliori, alcune volte è una delle migliori. Fate calmi, fermi, fermi. Questa macchina è molto bella, veramente molto bella. Prima cosa che entriamo in questa macchina molto bella, ve la farò vedere bene ora. Ecco qua, la macchina cosa si chiama. Lascia cliccare, che bipile, eh? E dai, eh? Polizia. Eccolo. E ora faccio cadere l'elicottero! Così tutti muoiono. È incredibile! Sbaglio, ho acceso Incredibile, sto facendo una bomba atomica, tan poco arriva anche l'FBI come ho sentito, wow, ormai sono già morto quindi, sono morto, sono morto, sono morto, questa è una delle mode che mi piace di più, è l'ambulanza, una delle migliori, tranne i lampeggianti che rimangono fissi e non si muovono. Ok, sto vicino alla centrale dei carabinieri, quindi mi basta anche rubare una macchina, fatelo avrò fatto milioni di volte. Speriamo che non chiamano nessuno in più dei ricolti di questo. Annaggia a quello che mi ha ammazzato. Purtroppo sono stato arrestato, incredibile. Arrestato, perché è arrestato? Che ho fatto di male? Solo ho rubato una macchina? Ma mi ritroverò sempre nella stessa centrale in cui ho già rubato una macchina e la riruberò. Non c'è nessuno però. Ok, non c'è nessuno quindi posso rubare un'altra macchina. Non credo che non mi sentano. Solo spaccare un vetro, eh. Qua ci spacca un vetro. Ora prendiamo, anzi no, ora facciamo una cosa che nessuno avrà fatto. Premerei per il modulo dei rizziotti. Allora, ora facciamo il chiamare rinforzi che l'altra volta non è andato purtroppo. In giro, ok. E ora mi sposto e se no questi non vengono più. Però faccio anche un altro trucco. Obbliga. Dovrei sapere che anche salute Agni ci ha giusto anche la macchina, quindi è meglio farlo. Usciamo dal cellulare e prendiamo una delle nostre macchine da polizia. Anche una mia, se ne frego. Allora, montiamo e ora andiamo a mangiarci una Bunger. Fortuna la va al casco. E ora? Allora, mi sembra che si faceva questo. Allora, vediamo uno degli ristoranti migliori vicino però magari. Lo sicuro prendiamo un taxi. Eh, pure lontano, prendiamo il taxi. Allora, questo solo c'è. Lo chiamiamo il taxi, va. Ok, l'ho chiamata. È pure andata addosso. Per il taxi che ce ne dobbiamo prendere. Premo F per lungo e così mi fa entrare dentro. Qui siamo, ragazzi! E la via! Grazie! Ah, posso prendere il treno? Però devo fare il trucco per andare in treno. Quindi... Allora... Vediamo il trucco. Il trucco mi rende una bella moto. Ops! Ho sbagliato. Lo usciamo dai trucchi. Ma dove va sta sozione? Dove va sta sozione? Che succede? Seguiamo le... Che strano... E va... E va... Che succede? Allora... Che succede? Non credo che! Essa parte che, estos possono creare sì. Vediamo. Vediamo le testo? Allora... Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!